la dignità la dignità per me è una cosa che dovremmo avere tutti ma ci manca dimentichiamo che cosa sia ognuno c'è il suo punto di vista perché è una cosa appunto aggettiva e personale la dignità è tenersi le cose sue se ti tiene cose due sei degno di averle se no non hai dignità nemmeno di tenerle un valore morale una cosa molto importante è vivere onestamente secondo me è la consapevolezza di valere qualcosa la dignità è il lavoro per me le persone che non lavorano perdono le dignità e lavoro manca per tutti la dignità per me seguire sempre la propria coscienza secondo me è semplicemente essere se stessi se c'è la dignità sei qualcuno non ho altro più valori oltre le mie dignità onorabilità qualcosa di importante poter camminare a fronte alta in questo mondo pieno di cose negative due aspetti della stessa cosa cioè del rispetto rispetto di se stesso poter vivere bene con gli altri con se stessi per non essere umano la cosa più importante perché comunque dai un valore importante a quello che fai a quello che puoi essere quello che puoi dare una persona che non si vergogna di nulla che non si vergogna di essere di dire e di mettersi in discussione